Ciao a tutti da Sardokan, capo della Gilda Led Zeppelin. Questo video è dedicato alle regole che bisogna assolutamente rispettare per rimanere nella Gilda Led Zeppelin senza che vi cacci malamente. Oggi parleremo solamente delle regole riguardanti la chat di Gilda, cioè l'educazione che dovete tenere quando scrivete nella chat di Gilda dove tutti i gildani possono leggere. Anzitutto, più che una regola, elenco un diritto, cioè quello che potete bestemmiare tranquillamente nella chat di Gilda, cosa che si può fare quasi solamente nella nostra Gilda, mentre non è tollerata nelle altre. Da noi è assolutamente tollerato bestemmiare in quanto gli dei non esistono e quindi non si potranno mai offendere con voi. Al contrario, invece, è vietato nella nostra Gilda perché non lo tollero assolutamente fare insulti a sfondo omofobo, scusate, quindi ad esempio usare la parola gay o froccio come se fosse un insulto, un'offesa, e poi non tollero neanche insulti a sfondo sessista, quindi denigrare la donna in quanto tale, quindi denigrare i personaggi femminili presenti nella Gilda, e poi assolutamente non tollero neanche insulti a sfondo razzista, quindi parole tipo negro, oppure insulti riguardanti la provenienza semplicemente della persona a cui vi riferite nella chat Gilda, ad esempio qualche giocatore straniero, e solo perché in quanto tale. Quindi, ricapitoliamo regole fondamentali nella chat di Gilda. Non accettiamo insulti razzisti, insulti xenofobi, insulti sessisti e insulti omofobi, mentre è tollerato bestemmiare. Ultimissima regola nella chat di Gilda, se vi capita di litigare per qualsiasi motivo, sia inerente il gioco, sia inerente ai problemi personali, con un altro giocatore della Gilda, ecco, si prega, se è un problema solo fra due o due giocatori, di risolvervelo in privato, o in una chat di gruppo. Quindi non disturbare la chat di Gilda, ma lasciarla libera a discorsi inerenti il gioco, e non in litigi vari, a meno che questi litigi non riguardino un motivo che coinvolge tutti i giocatori della Gilda. Questo è tutto per questa prima parte, guardatevi presto gli altri video che riguardano non solo le altre regole della Gilda, ma anche tutti i vantaggi. Ciao ragazzi, ah, scusate, prima di chiudere, devo fare una cosa, mi ha chiesto un personaggio di Gilda assolutamente di salutarlo nel prossimo video che avrei girato, il video è questo appunto, lo saluto, è un giocatore che è stato uno dei primi ad essere gildati, mi sta aiutando molto con la crescita della Gilda. Il giocatore è uno IOP, se non sbaglio, forse un sacri, adesso non mi ricordo, ah no, un'Ocra, un'Ocra, e si chiama Taraluccio 4, Taraluccio 4, no, ah no, Barabalal 3, qualcosa del genere, vabbè, non importa, comunque tu ti ringrazio, sì, vabbè, ti saluto, ciao ciao, chiudo questo video, guardatevi assolutamente gli altri, ciao ragazzi, e vive le Zeppelin! e vive le Zeppelin!